Andiamo a rubare, andiamo a rubare. Andate a rubare? Sì, andiamo per me. E dove andate a rubare? Giro, giro, giriamo, cosa vediamo capita. La dichiarazione shock del nomade al microfono di Rete Veneta ha scatenato una vera e propria reazione popolare. Tantissime le telefonate, le email che continuiamo a ricevere in redazione. I vicentini sono indignati, sconcertati. C'è chi è furioso, chi rassegnato, ma tutti chiedono una soluzione che permetta di mettere fine al degrado e ai piccoli furti che tante troppe volte avvengono nelle zone dove si fermano le carovane. A proposito, se da laghetto i nomadi se ne sono andati, documentiamo per l'ennesima volta la presenza di camper in via Zamenhof, proprio nella zona vietata dall'ordinanza del sindaco Achille Variati. E visto che il comune non ha ancora provveduto, ci pensa la Lega a intervenire con un'interrogazione in consiglio comunale. Dopo il video shock mandato in onda da Rete Veneta, abbiamo deciso come Lega Nord di presentare un'interrogazione in consiglio comunale per evitare che accada quanto è successo nel quartiere del laghetto e in via Lanza e per intervenire immediatamente nella zona industriale in via Zamenhof per ristabilire la legalità, visto che anche in questi giorni sono presenti carovane di nomadi che da qua non si muovono nonostante l'ordinanza del sindaco.